Tutto pronto a Biceglie per il decimo cammino regionale delle confraternite di Puglia, un evento unico nel suo genere che richiamerà domenica mattina a Biceglie oltre 10.000 persone provenienti da tutta la Puglia, che assisteranno prima alla Santa Messa in piazza Vittorio Emanuele e parteciperanno successivamente al corteo delle confraternite. Per preparare al meglio l'evento, anche il Comune di Biceglie ha predisposto un piano speciale d'azione dopo l'attivazione e la riunione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile con un presidio permanente all'interno del Comando di Polizia Municipale. Sono convocate qui tutte le associazioni della protezione civile, le associazioni di categoria e tutti coloro che promuoveranno l'organizzazione di questo evento. Naturalmente è un evento di carattere religioso che è organizzato maggiormente dalle autorità ecclesiastiche, ma è evidente che stiamo facendo un piano di protezione civile, di viabilità, un piano anche per gestire l'afflusso mai avvenuto in questi termini di turisti nella città di Biceglie perché le confraternite mettono in moto un meccanismo di turismo religioso che ha fatto andare veramente in corto circuito tutte le prenotazioni dei commercianti, degli ristoranti, dei bar, degli alberghi della città di Biceglie. Il Comune di Biceglie, oltre a patrocinare l'evento, ha sostenuto l'iniziativa con un contributo di 30.000 euro. A lavoro anche le associazioni di categoria dei commercianti che promuoveranno iniziative finalizzate alla promozione di Biceglie e all'accoglienza solidale dei partecipanti che riceveranno, come previsto dal piano di emergenza comunale legato ad eventi a grande afflusso di massa, assistenza ai generi di prima necessità. Lo scorso anno il cammino delle confraternite si svolse a Gallipoli e gli organizzatori dell'evento a Biceglie preannunciano il superamento del numero di prenotazioni avvenuto in occasione dell'edizione dello scorso anno. Le attività ricettive e ristorative della città registrano inoltre il tutto esaurito per un evento che si preannuncia di portata storica e straordinaria. Tutti i ristoranti di Biceglie sono già tutti prenotati, ma non solo quelli di Biceglie, anche quelli dei paesi limitrofi. Questo ha significato una grandissima riuscita di questa manifestazione che è addirittura un evento epocale.